Ci sono i soldi ma non ci sono i progetti. CGL, Cisle e Duil rilanciano i ritardi negli investimenti dei 32 milioni di euro versati da Eni a titolo di compensazione dopo la firma del protocollo d'intesa di 5 anni fa. I segretari Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania hanno chiesto ufficialmente un incontro al commissario straordinario ed hanno inoltrato la richiesta anche al governatore della regione Musumeci. I sindacati si chiedono che fine hanno fatto le ristrutturazioni dell'ex casa albergo Eni e il centro stoccaggio e distribuzione delle derrate alimentari inserito nella rete del Banco Alimentare Sicilia Onlus da realizzare presso l'ex mattatoio. Noi abbiamo chiesto naturalmente l'incontro con il commissario Rena per parlare dei 32 milioni di euro. Guardate che i progetti, quelli dell'ex mattatoio ma anche quella della casa albergo, dovevano già partire a dicembre. Ad oggi non ci sono notizie. Per questo motivo abbiamo chiesto naturalmente l'incontro. Guardate che in una città delle grandi contraddizioni, dove il comune di Gela con a capo il commissario Rena fa i tagli per la rifezione scolastica, nello stesso tempo si aumentano le tasse. Il problema principale sta nel fatto dove ci sono i soldi disponibili per poterli spendere, mancano i progetti. Guardate che questo comunicato l'abbiamo inviato anche al Presidente della Regione, perché il Presidente della Regione deve prendersi le proprie responsabilità rispetto ai progetti che sono stati presentati naturalmente attorno a questo territorio. Senza progetti, niente soldi da spendere. Da tempo la triade sindacale ha chiesto di far chiarezza anche sugli sviluppi dell'accordo di programma, che dotato soltanto di 25 milioni di euro, viene ritenuto decisamente inadeguato per coprire progetti per oltre 20 comune dell'area di crisi. Ad oggi però possiamo dire che dal 2014 al 2019 gli unici soldi spesi da queste compensazioni sono per un dragaggio inutile per il porto rifugio, per finanziare forse l'immagine della città attraverso Jacopo Fo e climatizzare le sale del museo? Sì, solo queste. Guardate, in una situazione di questo tipo noi dobbiamo sicuramente accelerare questo percorso, quelli di rendere operativi i progetti che servono alla città.